Demetra Ollus, Organizzazione Umanitaria di Promozione Sociale e Solidarità Internazionale, nella splendida cornice del Teatro Comunale di Vittoria, organizza Memorie e Verità, mostra fotolitografica di Giuseppe Mandarà. L'inaugurazione avverrà il 2 gennaio 2015 alle ore 18 e vedrà la partecipazione straordinaria di Giuseppe Leone, uno dei più grandi maestri della fotografia italiana del Novecento e Marco Selvaggio, uno dei pochissimi suonatori di Hang nel mondo. Il ricavato della vendita delle litografie del maestro Mandarà sarà devoluto a favore delle donne e dei bambini vittime di violenza.